Boom degli sfrattati in Toscana. Secondo i dati del Ministero dell'Interno analizzati oggi dal Sunia, la nostra regione nel 2013 è quarta in Italia per gli sfratti eseguiti con forza pubblica, con 2877 sgomberi e un rapporto di uno sfratto ogni 269 famiglie. Le città dove l'emergenza è più sentita sono Firenze, Provincia, Pisa e Livorno, ma Firenze, secondo il Sunia, il piano casa non basta. Il piano casa di Nardella, se si sostanziasse soltanto con la vendita di 1.249 alloggi, forse ci sarebbe qualcosa che non va. Diciamo che è un punto di un piano casa che spero sia molto più ampio, molto più vasto, perché la vendita di questi alloggi sarà un processo lungo, non si potrà vendere più di 200 alloggi per anno, perché c'è il vincolo alla vendita di quanti alloggi si riesce ad assegnare, dopodiché poi i soldi che i proventi dall'alienazione non arriveranno subito, le persone che comprano possono pagare dilazionando per 15 anni, quindi capite bene che è un progetto, non dico ambizioso perché secondo me non è ambizioso, ma è un progetto di finanziamento a lungo termine. Tanti altri devono essere i provvedimenti che devono far parte di questo piano casa. Da Roma intanto sono stati sbloccati anche i fondi per il contrasto alla morosità incolpevole. La regione toscana distribuirà ai comuni oltre 5 milioni di euro e questi andranno proprio a tamponare, a sanare questa piaga degli sfratti per morosità che sta aumentando in Toscana.